musica Oggi andremo a fare la pappa della nostra stala di Ferrari Come ingredienti avremo la passata di pomodoro per il fiore, aglio, prezzemolo, olio di nere, pomodori secchi per il fiore, acciughe, rafferi e origano. Ovviamente non manca la piene del fiore. Per prima cosa andremo a svitare l'aglio, il prezzemolo e le olive. E poi andremo ad installare le acciughe e l'appe. musica Per prima cosa prendiamo la padella, aggiungiamo un filo d'olio, qua ne abbiamo fatto friggere l'aglio, dopodichè andiamo a mettere la pasta di comodoro, un pizzio di sale e di pepe e aggiungiamo un po' più friggere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo pronti per rimpiattare, mettiamo la pasta sempre del piatto. Siamo pronti per rimpiattare. Grazie a tutti.